gentili telespettatori buona giornata la nuova accusa giorgia meloni è quella di usurpare il titolo patriota e di farlo suo e così interviene il politico di sinistra stefano fassina che dice ma ti dico io chi sono i veri patrioti perché giorgia meloni parla di un patriota al quirinale lo dice dal palco di atreio è stata chiarissima basta presidenti della repubblica scelti dal pd da ora in poi solo un capo dello stato in difesa della nazione parole queste che non sono piaciute a stefano fassina il deputato di liberi uguali non ha atteso prima di replicare i microfoni della trasmissione studio 24 di rai news 24 dove accusa fratelli italia di un uso strumentale del termine patriota ma c'è un problemuccio attenzione lui dice si tende ad usare patriota come sinonimo di destra i da nazionalista i patrioti vorrei ricordarlo anche a qualche collega del cosiddetto centro un po' smemorato sono stati innanzitutto i partigiani comunisti socialisti cattolici repubblicani liberali che hanno liberato l'italia da quella corrente della destra nazionalista che è stata il fascismo i patrioti hanno scritto la costruzione la costituzione non a caso la rivista dell'ampi si chiama patria indipendente dice fassino pertanto la meloni non dovrebbe utilizzare questo titolo questo questo nome questo vocabolo patrioti perché dovrebbe essere un vocabolo utilizzato dai patrioti di sinistra insomma secondo fassino al quirinale ci deve andare un patriota di sinistra un patriota ma provesso macchette ridi stiamo parlando di una roba seria erca miseria è una condizione necessaria dice fassina ma non sufficiente visto che deve essere una personalità in grado di essere riconosciuta dalla stragrande maggioranza di cittadini e cittadine italiane beh ma allora sergio mattarella che è andato al quirinale era un emerito sconosciuto cosa vuol dire essere riconosciuto dalla stragrande maggioranza di cittadini anche questa vedete che si arrampicano sugli specchi questi 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 personaggi si arrampicano sugli specchi e così conclude sarebbe utile sgomberare il campo da chi è stato leader iper divisivo nella sua storia politica istituzionale quindi meloni sarebbe stato un leader iper divisivo il quirinale non è l'oscar della carriera sempre che fosse meritato dice fassina il riferimento silvio berlusconi l'oscar alla carriera bello questo no berlusconi al quirinale oscar alla carriera la notte degli oscar la notte del quirinale bene allora facciamo questa riflessione caro fassina che cosa significa patriota un patriota si distingue dalle altre persone perché si sente eticamente impegnato a rispettare un maggior numero di doveri il patriottismo implica una preferenza verso una comunità civica o politica limitazione a cui si oppongono gli universalisti il patriota la vocabolario dice persona votata all'esaltazione alla difesa di un'idea nazionale e politica nel risorgimento durante la seconda guerra mondiale è un appellativo dei partigiani nella lotta di liberazione bene il patriota è una persona che esalta e difende l'idea nazionale di nazione e di politica e durante la seconda guerra mondiale venivano chiamati i partigiani nella lotta di liberazione dei patrioti bene abbiamo avuto anche un presidente un partigiano come presidente leggendario sandro pertini un patriota attenzione la sinistra con i muri ideologici sta pensando che giorgia meloni con patriota indichi un uomo di destra magari con camicia nera in realtà il patriota che indica giorgia meloni è patriota a 100 c'è l'accento scusate a 360 gradi non è un patriota con etichetta non è un patriota di di un partito politico giorgia meloni indica come patriota una persona che difenda le idee e la nazione di fronte ai globalismi all'europa ottusa che vorrebbe cancellare il natale il nome maria da sostituire con milca ma vai a quel paese ecco quindi caro fassina tu la butti giù sui muri ideologici partigiani e invece la meloni non hai capito proprio niente oppure non vuoi capire proprio niente perché giorgia meloni non sta mettendo un muro ideologico giorgia meloni non ha mai parlato contro i partigiani i partigiani sono stati hanno contribuito alla lotta di liberazione del paese dal nazifascismo pertanto sono stati dei patrioti dei patrioti te lo dico anch'io fassina te lo può dire anche giorgia meloni nessuno è contro i partigiani ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro andare a negare la storia o torcerla secondo un volere politico di parte che stupidaggini quindi caro fassina vuoi specificare che i patrioti nella seconda guerra mondiale erano chiamati partigiani bravo ci hai fatto ci hai ricordato una parte della storia italiana va benissimo ma se questo vuole andare a dire che giorgia meloni usurpa il titolo patriota che il titolo patriota è un titolo di sinistra allora telefona saviano fatti fatti una pizza con saviano giorgetti va con di maio a mangiarsi la pizza no tristissimi quei due e tu fassino fatti una pizza con saviano così durante quella pizza vi caricate contro giorgia meloni non so saviano ti può aizzare con appellativi che anche lui ha detto ecco insomma fatti una pizza con saviano fassina lascia perdere di andare a fare queste disquisizioni storiche perché giorgia meloni guardate che se giorgia meloni dice va su un presidente come pertini un ex partigiano giorgia meloni sarebbe felicissimo come lo sarei anch'io e tutti quelli di centrodestra di avere un altro sandro pertini al quirinale un vero patriota di sinistra quindi cerchiamo di ragionare in maniera corretta e a destra io non vedo tutti questi muri ideologici che hanno a sinistra dividiamo il patriota di qua di sinistra tu il termine non lo puoi usare ma va la va la che che bassezza che hanno questi uomini di sinistra uomini e donne sono veramente pessimi diremmo pessimi pessimi arrivederci a tutti e grazie ci vediamo al prossimo video